Uno degli yokai più disgustosi del folklore giapponese è Akaname. Il suo nome significa leccatore di sporcizia o lavatore di feccia. Assomiglia a un goblin e ha una lingua lunghissima e umida che trasuda saliva in continuazione. L'Akaname di solito affiora di notte nei bagni sporchi quando non c'è nessuno e succhia la melma e la sporcizia. Secondo la leggenda, lo yokai è innocuo, ma il suo aspetto può essere inquietante. È spesso associato a case infestate e a edifici abbandonati. Come gli scarafaggi, i ratti, i pidocchi e altri parassiti, l'Akaname detesta le case pulite e ben tenute. Si manifesta solo quando i proprietari non hanno alcuno standard igienico-sanitario. L'unica cosa da fare è tenere puliti i bagni per evitare la visita sorpresa dell'Akaname a casa vostra. L'Akaname di solito affiora 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 di solito affiora. Grazie a tutti.